Musica Ciao, benvenuti o ben ritrovati sul canale Io sono Salvo e oggi video haul di Tiger Ultimamente ci sto andando veramente molto spesso da Tiger Praticamente ci vado tutte le settimane Questo video haul è diviso in due parti La prima parte con tutte le cose che ho comprato io La seconda parte con tutte le cose che ho comprato mia madre Perché chi mi segue su Instagram Story Sa benissimo che quando vado alla Tiger Ultimamente ci vado o in compagnia di qualcuno Oppure con mia madre Io direi di iniziare subito Ma prima, ah vi voglio dire questa cosa qua Ho già fatto dei video haul natalizi Perché questo è un video haul natalizio Ne ho già fatto uno, se non l'avete visto Ve lo lascio qui in alto nella i Dopo questo video con calma ve lo andate a guardare E comunque ho anche fatto un altro bellissimo video Che ho fatto il video Tu del negozio di Tiger Vi ho filmato tutta la collezione di questo mese La collezione di dicembre L'avevo fatto, ma sicuramente l'avete già visto Anche il video della collezione di novembre Io comunque vi lascio sempre tutto qua Nella i in alto Dopo andateci a dare un'occhiata se mi interessa Iniziamo Allora, io ho comprato Allora queste Sono l'oggetto preferito di tutto questo video haul Già dal primo Partiamo subito così E parto con Queste ciabatte ad elfo Sono bellissime Allora In un sacco di video haul mi sono sempre lamentato Che non c'era il numero delle ciabatte Quindi non ho mai potuto comprare delle ciabatte per me da Tiger Perché solitamente mettono le ciabatte per i bambini Stavolta quando ho visto il 40-40 Ho detto No, le devo assolutamente comprare E vi giuro che per una volta Mi servivano Perché avevo comprato il mese scorso da Primark Anche lì ci ho fatto dei video Comunque Le ciabatte lì Insomma, delle ciabatte, delle pantoffole Da stare in casa E mi si sono rotte nel frattempo Perché oggi è successo un disastro Ma lasciamo perdere E ho detto Appena torno da Primark le compro Ma quando le ho viste la Tiger Ho detto a mia madre Inutile che vado fino a Primark Per comprare delle pantoffole Le compro la Tiger Così sono anche la Tiger E visto che ho anche quest'anno Ho anche comprato il vestito di Natale Che prossimamente mi metterò Che è il vestito di Babbo Natale Ci sta troppo bello Cioè non ho la pancia Però ci sta bene E con queste qua Sono perfette E poi le ho prese per un altro motivo Perché questi campanellini Secondo me faranno rimbambire il cane Poi su Instagram Vi farò vedere l'effetto E tutti i prezzi Di ogni oggetto del video Come sempre Vi rilascio in info box Se casomai mi scordo Perché a volte mi scordo E voi mi scrivete Me lo scrivete E io li vado a mettere subito Promesso Poi passiamo con un'altra cosa Che andrò a fare sicuramente Insieme a voi Che è questa sfera Che non so se è plastica Questa sfera Fai da te Praticamente questo è l'effetto Del fai da te Che dovrebbe venire Io non ho mai costruito Una palla di neve Fai da te di Natale Quest'anno Se avrò tempo Spero di sì Visto che comunque i Vlogmas Sono 24 In un Vlogmas Ci sarà il tempo Per fare questo qua Andrò a fare questi fai da te E insieme a questo fai da te Ho preso altri due fai da te Che sicuramente andrò a fare Insieme a voi Che sono due barattoli Sempre in plastica Natalizi Semplici Con contenenti Tutti gli accessori Tutto l'occorrente Appunto Per realizzare il fai da te E uno dovrebbe venire così Tipo un barattolo Vestito da Babbo Natale E l'altro Se c'è la figura Questo qua è più carino Un barattolo invece Un fai da te interno Con il pinguino Questa la vedo un po' più dura Però ci sono anche le istruzioni E quindi non dovrebbe essere difficilissimo Perché quando ho fatto il fai da te Le lanterne di Halloween È stato veramente complicato Se avete visto il video lo sapete Mi sono anche arrabbiato Per la prima volta Mi sono arrabbiato Nel fare il fai da te per voi Perché è veramente Ho detto Ma un fai da te Per i bambini è così difficile Cioè Se non ci riesco io Veramente Quindi spero bene In questi qua Secondo me La palla di neve Sarà semplicissimo I barattolini Già sarà un po' più difficile Poi non perdiamo altro tempo Ne mando alle ciance E ho preso anche questo Questo sono troppo Troppo curioso Di vedere Che cos'è Come si fa Se funziona E cioè Allora Guardate È uno slime Puppazzo Di neve Molto probabilmente Ci farò Un video a riguardo Solo su Questo oggetto qua Perché merita Un video Uno slime Puppazzo di neve Uno slime Che sta in piedi Boh Anche qua Ci sono Vedo la scattolina Tutti gli accessori Per costruire Il pupazzo di neve Quindi non c'è Solo lo slime E insomma Non ci dilunghiamo Troppo su questa cosa qua Poi insieme Andremo a scoprire Un video apposta Che farò Come funziona Se funziona Se vale la pena Comprarlo Oppure no Un'altra cosa Carinissima Che ho comprato Perché quando andrò A fare il room tour Natterizzo della mia stanza Non ce l'avevo Io non ho un presepe mio In casa abbiamo Un bellissimo presepe Che probabilmente Anche di quello Farò un video Perché questo mese Non so quanti video Devo fare Veramente c'è una lista Infinita di video Con tutte le idee Che mi avete detto Voi su Instagram Con tutte le idee Che sono venute in me Devo fare un sacco di video E appunto Mi mancava un presepe Ho detto Però comprare Un presepe Un po' da Insomma persone grandi Ho detto Prendiamo qualcosa Di più semplici Quando l'ho visto È perfetto Stavo cercando questo E ho comprato Molto semplicemente I tre personaggi Principali del presepe Che sono ovviamente Giuseppe La Madonna E Gesù Bambino E sono carinissimi Ma proprio carini Guarda come sono carini Sono proprio Per quei presepe Per i ragazzi O per i bimbi Ti va La mettere nelle camerette E non solo ovviamente Però ho detto Secondo me Nella mia stanza Se ci crea Un po' di atmosfera Che ci metto tipo Non so Un po' di fieno Faccio tipo una caverna Adesso provo a vedere In base al tempo che ho Cosa riuscirò a fare Perché vorrei farlo Sul mobile Dietro la fotocamera E metterci Questi tre personaggi Questo vi dico subito Il prezzo Perché se magari Sembra che costino tanto Invece costano pochissimo E costano 2 euro Al personaggio C'erano anche La mucca L'asinello E i tre maggi Ma visto che mi venivano 20 euro di presepe E tu con 20 euro Mi compri il presepe Già fatto Allora ho comprato solo I tre personaggi Ma comunque di sotto Cioè nel senso di sotto Dove ho il presepe Principale della casa mia Sicuramente avrò Altri personaggi E andrò ad aggiungere A questi tre Prenderò poi il principale Poi sempre dopo Vedo che i tre maggi Mi mancano Li andrò a comprare Comunque veramente Cioè non li potevo lasciare lì Mi piacciono troppo Ho comprato questo tè Perché da Tiger Non so se tutti sanno O ci hanno fatto caso Perché non tutti interessa Vendono tantissime buste di tè Io ve le consiglio Un sacco Perché le buste di tè Che vendono da Tiger Sono veramente Veramente naturali Al 100% A modi proprio erboristeria Questo qua è tè sogni d'oro Quindi è un tè Tipo camomilla Per rilassare i nervi E ne ho tanto bisogno Perché non so se avete notato In questo video Che sto parlando molto In modo logorroico Perché ultimamente Sono sempre indaffaratissimo Ma veramente tantissimo Fra il lavoro YouTube e palestra Veramente non so dove sbattere la testa E in più devo pensare anche agli amici Quindi ho comprato questo qua Perché tutte le sere Appunto Che mi seguo su Instagram Mi faccio sempre il tè La camomilla La tisana Qualcosa per andare a letto Rilassato Magari il tè No lo faccio la mattina Adesso che ci penso La mattina mi bevo il tè verde Tutte le mattine il tè verde E alla sera Mi faccio la camomilla La tisana Per rilassare i nervi E voglio provare anche questo qua Precedentemente Avevo già provato una busta In tantissimi video Vecchissimi Avevo comprato Il tè a mela Cotogna E tè verde Buonissimo Ne ho ancora un pochino L'unica cosa Dovete avere il filtrino Ma non vi preoccupate Perché Tiger Di fianco alle buste Vende anche il filtrino Poi ho comprato Un'altra cosa Carinissima Che non vedo lì Fagli la foto Allora guardate che carino Questo cerchietto Con attaccate Le orecchie da elfo E il cappellino Ovviamente non è per me Cioè lo potrei mettere Anch'io volendo E sono anche Mamma mia quanto sono brutto Ma brutto brutto Sembra uno di Strattrac A Tobia A mio cane L'ha visto mia madre In realtà E non ce l'ho neanche fatto caso L'ha vista Ma perché non glielo compriamo al cane E ho detto Vabbè compriamogli al cane Così gli facciamo la foto di Natale Perché se la trovo Ve la metto in questo punto C'è una foto di Natale Di Tobia Bellissima Con il cappellino di Natale Di qualche anno fa Che secondo me C'è ancora su Instagram E quest'anno magari Ci proviamo a mettere il cerchietto Gli facciamo la foto di Natale Anche a lui quest'anno Insieme all'albero di Natale Dai Se lo prende Lo divola Però per il momento Si potrebbe provare Intanto a infilarlo Comunque su Instagram Metterò la foto Se riesco a farla Quindi andate tutti su Instagram Per tutti i prossimi aggiornamenti E altre cose Direi molto sfiziose Che mi servono Per la futura Casa Panni Zenzero Che farò Spero di riuscire Da sola A fare la casa Panni Zenzero Non lo so Comunque come viene Viene Il video Lo pubblicherò Adesso non so Quando farò la casa Panni Zenzero Non so come la farò Non so con chi la farò Se la farò da solo E come E intanto ho preso Tutti i necessari Per fare la casa Panni Zenzero Ho la casa Panni Zenzero Ho la colla per alimenti Mi mancavano le decorazioni E le ho comprato ovviamente Da Tiger Dovrei comprare le decorazioni Per la casa Panni Zenzero Se non da Tiger E ho comprato Le stecche Lecca lecca Che le avevo già fatte Anche vedere Nell'altro video O il precedente di Natale Ne ho comprato delle altre Perché quelle lì Le ho regalate I marshmallow Piccolissimi Guardate che carini Questi marshmallow Da Tiger Ci sono tutte le forme Piccoli Medi Grandi E giganteschi Poi Le palline di Natale Al cioccolato E poi Questi tre Queste tre scatoline Con Vari Cioccolati Anche se non si dici Dice Anche se Cioccolati che non si dici Vabbè Questi qua Tre vari E questi qua Le andrò a utilizzare Come decorazioni Appunto Per la casa Panni Zenzero Che non vedo l'ora Di costruire Ma al stesso tempo Sono preoccupato Come fai da te Perché non so Se in realtà Mi verrà Oppure no E passiamo con Questa bellissima Alzatina Cupcake In ceramica Che molto probabilmente Lei utilizzerà Per Natale Tipo magari La mette Come centrotavola Natale O ci mette il cibo Oppure ci mette Non lo so Delle decorazioni Per fare una bellissima Tavola di Natale E questa qua Non costava tanto Non mi ricordo il prezzo Dopo guardo sullo scontrino Ma non costava veramente tanto Ed è veramente molto carina I miei piatti Sono in ceramica Pensavo che fossero in plastica Infatti pesa anche tanto Con il bagaglio di farro in mezzo Deve avere Una semplicissima Alzatina E misura Vi dico anche le misure Perché ci sono scritte dietro 23 cm di larghezza Per 22 cm di altezza Quindi è un lavoro così Non è Non è anche carina Secondo me Poi vabbè Anche questa a Natale Farò tanti quelli Instagram story Che la vedrete di sicuro Se l'andrò a utilizzare A Natale Poi ha comprato Degli scrub per il corpo Cose molto 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 femminili C'è da dire Uno scrub Con A parte la cosa Molto carina Di questi scrub Che mi piace molto Anche a me Sono del cucchiaio di legno Che li rendono molto carini In vasetto di vetro Cioè Non è che si vede Proprio tutti i giorni Questa cosa qua Che i solitori per coppoli Trovate nella plastica Praticamente Invece questi qua Sendo Tiger Sono molto più rivoluzionari E dovrebbe essere Questa Limone e vaniglia Uno scrub A limone e vaniglia E uno scrub A caffè E cocco Sono molto carini E sono anche Delle ottime idee Come regali di Natale Un'altra cosa Super carina Che hai detto Che la devi mettere in bagno È questo E vi giuro Che non è mio Non è perché Se il colore oro È mio È che sto contagiando Anche mia madre Con il colore oro Quindi cerco di far Comprare le cose Anche a lei E questa Bellissima scritta Happy Ma ce l'ha anche Love Che non è altro Vedete c'è una base Non è altro Che un porta gioie Voi Dalla freccia Per tutta la scritta Ci potete appendere Ci potete appendere Le collane Gli orecchini Tutte le cose Di bigiotteria Non solo E lei la vuole mettere In bagno Così ci mette Tutte le sue collanne Sopra Che al momento Non hanno un posto E gli ha detto Beh se ti compri Una cosa del genere Sicuramente Il nostro bagno Ci sta bene E quindi L'ho convinta subito Un altro nastrino Che ha comprato Sempre lei Per i regali Natale In abbinata La carta di Natale Questa qua La regale Questo qua Un nastrino Argentato Molto carino E con i glitter E infine In conclusione Ha già comprato I tovaglioli Per il pranzo di Natale Ovviamente di Tiger Guardate che carini Un euro l'uno Molto molto carini Ma anche di questi C'erano un sacco Un sacco di fantasia E siamo in certa conclusione Anche di questo video Spero che questo video Vi sia piaciuto Che vi sia servito A qualcosa Fatemi sapere Se siete stati da Tiger Se avete comprato qualcosa O se volete comprare qualcosa Di quello che avete visto In questo video Mi raccomando Scrivetemi tutto Scrivetemi sia su Youtube Che come fate sempre Su Indirect Un'altra novità Che non vi ho detto All'inizio del video Che ho sbloccato Le storie su Youtube Sono felicissimo Adesso avrete delle storie Ovunque Ve lo prometto Saranno ovunque Che dirvi ancora Lasciate un like Commentate Condividete il video E noi ci rivediamo In un altro meraviglioso video Ciao a tutti